Ci scontriamo sempre con il solito tema della scarsa propensione a coltivare un senso civico che si è andato sempre più perduto, il ragionamento sarebbe anche più complesso. Invitiamo evidentemente a rispettare delle norme di convivenza civile, soprattutto con i nostri giovani che spesso purtroppo sono i protagonisti invece di questi episodi. A sole poche settimane dagli accoltellamenti avvenuti all'ombra di Palazzo Gotico è amaro il commento del sindaco di Piacenza Paolo Dosi all'incidente avvenuto in Piazza Cavalli sabato notte quando un automobilista a 21enne risultato in seguito positivo all'alcol test ha diventato un colon notte sfondato l'ingresso della BNL. Non era mai accaduto niente del genere in Piazza Cavalli e non dovrà più succedere, ha detto il sindaco che annuncia interventi di concerto con la Polizia Municipale. Valuteremo insieme alla Polizia Municipale, insieme anche all'Ufficio dei Lavori Pubblici viabilità in particolare delle misure per cercare di limitare e contenere se non, nel caso più drastico, vietare l'accesso in Piazza Cavalli se non in fasce orare determinate e quantomeno con delle modalità che possono impedire il replicarsi di questi episodi, ci tengo a ricordare che però si tratta di un episodio, non è mai accaduto qualcosa del genere dobbiamo impedire evidentemente che si possa replicare.